Si chiama Robert Greene, è un uomo che vive all'estero non qui in Italia ed è stato veramente fortunatissimo. Infatti gli è stato proprio prospettato un anno solo di vita e l'unica terapia da eseguire, una terapia sperimentale, perché l'uomo che ricordo che è malato di un cancro, di un tumore. Ma rimane non ce l'ha fatta, è riuscito a sopravvivere, la sua storia sta facendo letteralmente ingiuno del mondo, lui viene da Manchester, nel Regno Unito, di 51 anni di età, nell'anno 2020, tre anni fa, ha saputo di avere un cancro. Nel fatto obbligare, dopo la cura, tutte le cellule tumorali che ha nel corpo sono interamente andate a estinguersi, a diciamo così, spendersi, eppure vi ricordo che nei cancro, nei tumori, nelle neoplasie, spesso e volentieri le cellule tumorali vengono ad ampliarsi o meglio a svilupparsi sempre di più. La vicenda è incredibile, l'uomo ha seguito una cura sperimentale, la terapia a base con farmaci immunoterapici, che va ad agire aiutando, sostenendo i sistemi immunitari, riconoscere e attaccare quelle che sono le cellule del tumore, un trattamento che viene eseguito attraverso la fleboclisi, e aiuta con i sistemi immunitari a riconoscere tutte quelle cellule brutte, negative, ossiche da uscire, e attraverso una combinazione vincente, anche con l'utilizzo della chemioterapia di tipo standard, sembra proprio che l'uomo abbia sconfitto il cancro. Il farmaco può essere nominato, diciamo così, in maniera privacy, cioè non c'è un nome, perché è una cura, è tutto sperimentale. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Possiamo dire una cosa, che è questa, che l'uomo in questione ha avuto una grande fortuna, a dare attività. D'Aradio Italiano è tutto, ciao a tutti.